Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus l'oroscopo di giovedì 23 novembre Ariete, una giornata che promette davvero bene grazie alla luna nel vostro segno il lavoro sarà vivace, ricco di avvenimenti sarà per questo che a fine giornata sarete soddisfatti Toro, alcuni successi sul lavoro in giornata vi restituiranno un ottimismo una fiducia nel futuro che ultimamente avevate perso Marte parla di soldi e d'amore Gemelli, la luna in Ariete rende davvero piacevole la vostra presenza l'atmosfera che si respira quando ci siete voi è di leggerezza e simpatia fate acquisti mirati Cancro, l'amore continua a riempire la vostra vita con tanta passione sono invece un po' complicati nuovi incontri perché oggi sarete molto riservati Leone, la luna in Ariete vuole rendere questa giornata meravigliosa da un punto di vista affettivo anche piccoli problemi quotidiani legati alla casa e alle finanze saranno superati con facilità Vergine, anche oggi non riuscirete a vivere con serenità ci sono troppi problemi che vi assillano e rischiate di farvi coinvolgere in discussioni antipatiche Bilancia, la luna difficile potrebbe innescare qualche polemica nella coppia il vostro atteggiamento un po' arrogante non sarà apprezzato dal partner Scorpione, cercate di svolgere il vostro lavoro con il massimo della precisione quando siete euforici spesso diventate distratti e in questo momento non potete permettervelo Sagittario, arriva una giornata davvero positiva con la luna vivace, chiacchierona che vi mette al centro dell'attenzione i flirt sono all'ordine del giorno Capricorno, vi sentite stanchi, preoccupati da quello che accade intorno a voi anche svogliati cercate di uscire da questa apatia il giorno può essere molto buono per il vostro lavoro Acquario, arriva una giornata interessante in cui sarete abili a stabilire rapporti personali e professionali avrete una grande capacità di comunicazione e sarete apprezzati Pesci, una giornata che riserva belle sorprese Innanzitutto la luna vi rende concrete e affidabili poi Marte, ancora favorevole, vi fornisce il pieno di energia E con l'oroscopo di oggi è tutto Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus Grazie a tutti